salve a tutti sono micweb e siamo di nuovo qui per incominciare a costruire la struttura del nostro sito con wordpress apriamo il nostro browser vado a cercarmi adesso il mio blog che avevo preparato l'ultima volta oggi parlerò solamente dell'aspetto il tema template o come lo volete chiamare secondo me è la parte più importante di un sito il template il design come viene visto la nostra pagina secondo me è una parte importante di tutta la pagina internet del nostro sito che vogliamo avere come dicevo l'altra volta andiamo a loggarci il nome del dominio sotto cartella vp-admin il mio nome utente la password che me la digito e poi vi farò vedere come come si installa un template quelle opzioni ci sono l'importanza dei menu di navigazione ok i template è la parte principale del nostro sito aspetto qui ho già installati alcuni template si lasciano installare sotto il menu appunto aspetto ad esempio mi attivo questo un po noioso come come template però per spiegarvi l'importanza del menu va benissimo faccio vedere le cose più importanti qui sono i colori standard posso cambiare il colore del titolo del sito come vedete rosso verde adesso ho cambiato solo la parola in alto tutorial cambio il sottosfondo della testata questo solo cambiando il valore della testata del mio sito non sto facendo grandi cambiamenti poi qui posso mettere una immagine di sottosfondo metto questa che è la solita che uso, non si vede perché la pagina non la consente, ma in sottosfondo come vedete c'è l'immagine che ho scelto, a questo punto, qui posso impostare come deve essere l'immagine del sottosfondo, sinistra, destra, in mezzo, fisso, a seconda del tipo di template, queste impostazioni sono standard di ogni template, immagine di testata, questa è la parte superiore del nostro sito, qui mi posso ritagliare anche l'immagine, eccola qui, ho cambiato qui in alto l'immagine della testata, anche un'opzione standard che è presente su tutti i template, qui la parte principale, menu, 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 possiamo definire le voci del nostro menu, molto interessante, possiamo aggiungere alla nostra voce di menu links, links esterni, ad esempio, adesso faccio un esempio banale, google.it, non funziona perché non ho scritto il nome di questo link, è importante, se no non funziona, scrivo google, lo aggiungo al menu, poi aggiungo anche un articolo, nel mio caso c'è solo un articolo presente, quindi poi posiziono il menu, qui è importante, ho scelto questo nuovo menu che ho creato di posizionato, di posizionarlo nella posizione in alto, nel menu principale, il menu principale che è questo qui in alto, pagina esempio, come avete visto, di nuovo una pagina di esempio, qui google, che è il link che ho creato prima io, un attimo che devo salvare, vi mostro, se schiaccio qui, vengo renderizzato su google, molto interessante se avete un secondo sito o un forum o un'altra pagina da qualche parte, potete linkarla in questo modo, a questo punto aggiungiamo un nuovo menu, lo chiamo per intenderci menu 2, stesso principio di prima, aggiungiamo le voci al menu, come deve essere il nostro menu, io lo faccio con i links per capire, visto che non ho nessuna pagina, nessun contenuto, sempre su google, google ho scritto di nuovo un nuovo link, scrivo google 2, aggiungo la voce al menu, stessa cosa, google.it e aggiungo google.it e aggiungo la parte al menu, ci metto anche una pagina di esempio, posso aggiungere una categoria eccetera eccetera eccetera, il menu non c'è perché non ho selezionato la posizione di questo menu, questo menu lo metto menu secondario, come avete visto il menu secondario mi compare alla sinistra, infatti se vedete, sopra menu principale, adesso il menu 2, che ho chiamato menu 2, è questo qui laterale, che è il menu secondario, adesso salvo, vi faccio vedere, questo è il mio sito, google, perché ho creato un link esterno, piccola parentesi a parte, la creazione di links è molto importante per il piazzamento di google, google tiene conto se un sito ha parecchi links interni, esterni, se aggiungete dei links sappiate che ottenete dei vantaggi per il piazzamento su google, a questo punto questo template mi dà la possibilità di aggiungere altre opzioni, altri widgets sulla sidebar, sidebar è il lato di sinistra molti template hanno la sidebar a destra, molti template non ce l'hanno, molti template hanno due sidebar, sinistra e destra, dipende appunto del template che avete selezionato, adesso aggiungo ad esempio un widget per farvi vedere cosa intendo, qui ho aggiunto il calendario, questo widget viene piazzato qui a sinistra, perché questo è lo spazio dedicato alla sidebar principale, in questo caso, in questo template si chiama sidebar principale, cosa interessante, questo template mi permette di aggiungere widget anche a piedi pagina, faccio un esempio, scrivo, vi do un esempio, aggiungo un nuovo calendario, questo è il widget che va a piedi pagina, un attimo che scrivo, scrivo qualcosa perché qui non mi si corregge da solo, va bene, ci metto un altro testo, test2 per intenderci, aggiungo il widget, vi faccio vedere dove me l'ha piazzato, me l'ha piazzato qui appunto a piedi pagina, aggiungo un altro widget, ci metto adesso articoli recenti, posso mettere il titolo di come si chiama il nome del widget, test, adesso aggiungo ad esempio meta, che sarebbe il link più importanti del sito, questa opzione, questo tipo di template mi permette appunto di aggiungere varie opzioni a piedi pagina, però da ricordare non tutti i template hanno questa posizione, questa possibilità, poi andiamo qui, pagina, qui si sceglie qual è la pagina iniziale, io non ho creato nessuna pagina, quindi al momento non ha senso, questo ve lo farò vedere nel prossimo tutorial, l'importanza delle pagine e degli articoli. A questo punto vi ho fatto un attimino vedere la struttura, i primi passi quando si genera un sito, l'importanza di creare dei menu. Come avete notato, dicevo sempre, dipende da template a template. Non tutti i template hanno la possibilità di avere più di qualche menu, quindi vediamo adesso, ad esempio, qui ci sono altri template che ho installato, anzi facciamo una cosa, vi faccio vedere come si può installare un menu o come selezionare un nuovo menu, aggiungi un nuovo menu, posso scrivere qui ad esempio la parola, scrivo nero e vedo cosa mi da per la parola nero, questo che ho già installato, questi solo 5, un po' poco, scrivo verde, vediamo cosa mi da, se scrivo verde non mi da nulla, ma facciamo, scrivo adesso black, nero in inglese, vediamo, ecco qui, ecco io ho molti, molti di più, molti più risultati perché la maggior parte degli autori scrive in inglese, quindi tagga il template con la parola black, infatti qui ce ne sono molti di più a scelta, posso anche cercare i più popolari, tra i più popolari sono più di 2000 risultati, qui come vedete si ha l'imbarazzo della scelta, si possono aggiungere anche dei filtri, ad esempio voglio cercare un template nero, blu, due colonne, barra laterale a sinistra, la sidebar come dicevo, poi immagini in evidente, intensazione immagine, fotoblock, se utilizzo i filtri mi da altri risultati insomma, consiglio che vi do all'inizio non perdete troppo tempo a cercarvi un template, ce ne sono parecchi, ce ne sono tantissimi, la maggior parte sono gratuiti, però se volete usufruire di azioni premium e lì si paga 30, 40, 70, 80 euro a seconda del template, le cosiddette funzioni premium, ad esempio se volete avere un numero illimitato di ASHO sulla testata e nella funzione premium dovrete pagare la licenza del template, la maggior parte dei template qui sono comunque gratuiti, adesso ho attivato un altro template e come vedete questo template ha un'opzione particolare, si trova sotto themes options, sono opzioni speciali solo per questo tipo di template, qui posso cambiare il colore dei bottoni, posso aggiungere il bottone, questo bottone qui intendo, che è solo un link, posso attivare anche il secondo bottone, qui posso selezionare il tipo dell'out qui importante per tutte le social, facebook, twitter, youtube, google plus, potete mettere i vostri profili per linkarli, salvate, adesso vi faccio vedere cosa abbiamo fatto, qui ho aggiunto questi bottoni, posso cambiare il colore, questa è un'opzione particolare di questo template, questo template però, molto carino, nero, mi piace, però ha la possibilità di gestire solo un menu, il menu principale lo mette a sinistra, quindi se volevate avere più menus, questo template non lo permette, vado un attimo a controllare, aspetto, temi, personalizza, temi, opzioni, un attimo che controllo, personalizza, identità del sito, qui è il titolo che compare qui in alto, colori, posso cambiare i colori, queste sono, come dicevo prima, sono le opzioni standard che ci sono su tutti i templates di wordpress, posso cambiare il colore però, non è che adesso mi interessa molto, immagine di sfondo, posso cambiare l'immagine di sfondo, prendo sempre la solita, la seleziono, comunque anche questo template, l'immagine di sfondo non si vede nulla, quindi non ha una rilevata, queste sono impostazioni standard che come vedete non funzionano su tutti i template, ecco qui, qui abbiamo i menu di prima, però il menu 2, che era quello precedente, non viene visualizzato perché questo template ha solo una posizione, header menu, header menu è la posizione che vi ho fatto vedere, questo template non mi permette di aggiungere un secondo menu o menu di navigazione contemporaneamente, peccato perché io lo trovo carino avere molte possibilità di navigazione, bene, a questo punto questo template però ha una particolare, particolare perché mi permette di mettere widgets, queste mini funzioni al di sotto del banner principale, qui posso, come vedete, potete scegliere cosa e dove piazzare attraverso il widget, non ci sono il menu, non c'è il menu secondario ma c'è la possibilità di aggiungere più widget, a questo punto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Questo era tutto riguardo ai template, la prossima lezione sarà riguardo gli articoli e come gestiamo il contenuto delle pagine, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima.